John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti amici del secondo canale qui appunto su Seekwolf 2.0 per parlare della puntata appena terminata di X-Factor, il quarto live e vi dico un po' la mia con tutta la umiltà possibile perché lo guardo ovviamente e ci tengo a precisarlo prendendo degli appunti da spettatore quindi in senso non cominciare a dire cosa ne capisci, io valgo voi nel senso voi che guardate dite la vostra, io dico la mia, ne parliamo come se fosse un bel blog un bel blog gigante dove poter, una community ok, un forum dove poter commentare la puntata di oggi di X-Factor ebbene questo video ovviamente conterrà degli spoiler, lo spoiler sta per arrivare 3, 2, 1, l'eliminato della puntata è stato un gruppo e sono stati i Seewords ora prima di andare ad analizzare ogni concorrente dell'ultima puntata per come ha fatto, vi dico la mia, vi dico se mi è piaciuto o meno devo dire una cosa molto importante che mi dispiace veramente dire la cosa che mi dispiace dire è che era telefonatissima l'eliminazione dei Seewords tant'è che si parlava prima della puntata e si diceva beh, facendo un calcolo probabilmente i Seewords che sono il gruppo più scarso tra i gruppi perché la Sierra è molto molto forte, i Buddha sono tra i più forti di tutto X-Factor verranno messi in un gruppo, in una manche veramente sanguinolenta con probabilmente i più forti di fatti i più forti secondo me erano nell'altra manche, mancavano solo i Sierra ma non potevano mettere anche i Sierra sarebbe stato errato, così come era molto telefonato il fatto che Davide Rossi per quanto può essere bravo sarebbe passato infatti gli è capitato il girone con Nicola Cavallaro che molto spesso è stato in dubbio con Giordana Petralia che va sempre a fare il ballottaggio perché era l'unico di Malikaian e ovviamente non potevano mandare agli inediti un giudice senza appunto nemmeno un concorrente a mio modo di vedere la vedo un po' così, mi dispiace dirlo ma la vedo un po' così, questo è il mio punto di vista ovviamente fate voi complimenti comunque a Davide Rossi che in realtà mi stupisce anche, non mi è dispiaciuto per niente fa i Queen, Queen veramente difficile da fare quindi lui è stato veramente molto molto bravo, ha osato sono contento di questo perché io ho detto sicuramente passerà proprio per questa ragione secondo me comunque lo faranno passare e mi sembrava abbastanza scontata questa cosa, proprio per questo, visto che comunque sarebbe passato in ogni caso speravo che osasse, che non facesse il compitino perché tanto sarebbe passato lo stesso ma che mi stupisse con un pezzo della Madonna lo fa, fa i Queen, li fa benissimo, non a livello dei Queen, giusto per citare Malikaian ma dopo ne parliamo quando andremo a parlare di Nicola Cavallaro e quindi mi è piaciuto molto e vi dirò che di questo gruppo è stato il secondo a piacermi di più quindi insomma si merita assolutamente, aiutato anche dalla Manche in questo ho inserito si merita secondo me assolutamente il passaggio agli inediti per questa puntata Giordana Pedralia Giordana Pedralia mi è piaciuta anche lei è cambiata tantissimo pazzesco come l'hanno trasformata da 0 a 100 è cambiata ad essere una cinquantenne con l'arpa ad essere una ventenne finalmente fatica ancora a collocarsi in un'epoca 2019-2020 però chi se ne frega nel senso non è che bisogna avere per forza artisti alla sfera se tuttora ci sono artisti che comunque sono vecchi a scuola e funzionano complimenti a Giordana Pedralia detto questo Giordana Pedralia che tutte le volte tutte le fottutissime volte la mandano al ballottaggio dall'inizio e si salva sempre e qualcosina vorrà anche dire probabilmente non so perché la odino così tanto tutti quanti comunque si salva successivamente scendono anzi salgono sul palco la sierra e ragazzi la sierra continua a stupire la sierra continua a sfondare addirittura statera mi hanno ricordato la Crimuccia Carbrave XFranco 126 a livello di intorazione sono migliorati tantissimo hanno l'autotune? sì ma a livello di intorazione sono migliorati tantissimo quello che scrivono è veramente fantastico e per me sono stati la perfezione in questa puntata sono stati i migliori di tutta la puntata secondo me non solo della Manchur ma di tutta la puntata quindi complimenti alla sierra e ovviamente l'ingresso agli inediti probabilmente faranno enfasi quasi sicuramente agli inediti se la meritano tutta Nicola Cavallaro Nicola Cavallaro Nicola Cavallaro allora si è salvato a me non mi è piaciuto per niente e non sono d'accordo nemmeno con una parola di quello che ha detto Malika Iyan quando ha detto cose positive su Nicola Cavallaro non ero d'accordo quando ha detto cose negative non ero d'accordo non ero d'accordo sulle cose positive perché secondo me non è andato troppo a tempo anzi è andato un po' fuori tempo non è diciamo la sua voce non è adatta al rap per quanto Salmo un po' la faccia con l'interazione non è adatta addirittura all'inizio ha sbagliato tipo le prime due frasi le ha sbagliate ma poi al di là di questo lei ha detto non è sbagliato nemmeno una parola non è vera ha sbagliato qualcosina mentre parlava poi ha sbagliato anche un po' dopo era difficilissimo da fare Salmo mi è piaciuto il fatto che lui abbia voluto usare complimenti a Nicola anche perché non era ribadisco non era semplice per niente poi lui l'ha spiegato sul palco ha detto che comunque lui essendo del sud avendo preso tanti calci voleva insomma sfogarsi quindi sono contento e poi si è riuscito a passare io l'avrei mandato dal ballottaggio e poi salvato quindi attenzione nemmeno a dire l'avrei fatto fuori sono contento di come sia andata questa puntata però non mi è piaciuto e non sono nemmeno per niente d'accordo con Malika perché Malika se ne è presa un po' con lui dicendo è però il rap avevamo detto che se tu porti abbiamo detto per tutto il tempo che se tu porti rap devi scrivere perché se lo scrivi allora innanzitutto Salmo non è semplicemente rap secondo me cioè il pezzo che fa Salmo 90 minuti non è rap cioè è rap ma non è tu dici è un pezzo rap non è un pezzo rap è difficile interpretazione è difficile stargli dietro nel ritmo è difficile stargli dietro nell'enfasi è difficile tutto in quel pezzo è difficile stare a tempo è difficile il modo in cui lo canti la cattiveria la presenza scenica è difficile tutto di quello che fa Salmo in quel pezzo punto uno punto due questo era un discorso cara Malika secondo me che veniva fatto precedentemente ovvero veniva fatto magari quando erano gli artisti a scegliersi il pezzo e gli dicevano beh se vieni con un pezzo rap sì ok sei bravo a farlo però il rap è penna dal momento in cui c'è una come si dice una un'assegnazione e l'assegnazione a Nicola gliel'hanno data quindi hai detto te la prendi con Nicola devi vedere ok puoi dire l'assegnazione per me l'ho un po' penalizzato però devi vedere come ha fatto il pezzo perché a lui gli hanno dato quel pezzo lui non ha scelto nulla se mi so lei l'ha fatto l'avrei mandato lui al ballottaggio però non sono d'accordo con Malika comunque l'avrei salvato successivamente detto questo andiamo a guardare la seconda mano ovviamente mi sono preso anche qua due appunti allora i Buddha i Buddha a parte che lei l'hanno visita la cantante l'hanno visita la Giordana Petralia non so perché mi sembra la Giordana mi ha detto Giordana Giordana di nuovo qui ancora tu basta invece no bravissimi ragazzi bravissimi i Buddha a parte che nelle interviste mi ricordano un sacco i Mane Skin a parte però i Buddha spaccano 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 però i Buddha spaccano i Buddha rompono qualunque cosa quando arrivano i Buddha sul palco credo siano stati i secondi migliori di questa puntata quando arrivano ragazzi prendono qualunque cosa complimenti ai Buddha si sarebbero salvati in ogni caso sono salvati ancora di più l'hanno dimostrato in un girone di ferro in una marcia di ferro sono stati i migliori secondo me secondo in ordine di secondo in ordine di di esibizione ma anche secondo me questa sera a livello di prestazione comete comete Eugenio Campagna che ha fatto una grandissima interpretazione mi sono piaciuti leggermente più i Buddha però ha fatto una grandissima pazzesca interpretazione secondo me il suo modo di cantare perde un po' in inglese però l'ha interpretata in un modo ragazzi ho la cavo le braccia ho detto ma di che cazzo stiamo a parlare lui è un artista fatto ma credo che a questo punto i finalisti a meno che Giordana Petralia non faccia un miracolo credo che i finalisti siano abbastanza scontati siano i Buddha Kimono comete e appunto la sierra penso io penso io probabilmente a questo punto quinta Giordana Petralia secondo me e e sesto arriverà come cazzo la si chiama arriverà Davide Rossi quindi penso che la prossima Nicola Cavallaro almeno che non faccia Mario Biondi la voce è quella capisco perché ogni faccia non fa Mario Biondi in quel caso al suo le mani almeno che non faccia Mario Biondi io penso che insomma la prossima credo sia la puntata in cui Nicola Cavallaro andrà a casa non glielo auguro i Sea Wars i Sea Wars sono gli eliminati della puntata sono contento che abbiano fatto un pezzo loro almeno hanno dimostrato di saperlo fare però non mi dicono niente nel senso non mi trasmettono nulla sono fiacchi sono leggerini non mi piacciono non è un mio stile innanzitutto quindi quella è una cosa anche abbastanza soggettiva magari a voi piacciono a me no però al di là di questo non mi piaceva più il fatto che non mi trasmettano nulla io ci provo l'anno scorso c'era il gruppo quello l'audio non mi ricordo ma come si chiamano che facciano tutti tutti gli strumenti a bocca suonavano con le pinne così ok non mi ricordo come si chiamano vabbè erano fortissimi e nonostante cantassero molto leggerini un po' come a livello dei Sea Wars loro ti trasmettevano qualcosa di pazzesco ti andava a spaccare tutto ecco i Sea Wars questo non me lo trasmettevano quindi sono contento che a questa puntata siano usciti loro per quanto riguarda Kimono brava in francese non facile per niente si muove anche bene sul palco fa paura mi sono cagato sotto non aveva mai avuto questa questa presenza scenica così imponente sono contento di aver visto Kimono sotto questa veste quindi è giusto secondo me che si sia salvata lei gli avrei mandato i Sea Wars e Nicola avrei salvato Nicola sono andati ancora una volta a Giordana Metraglia poveraccia ai Sea Wars Giordana Metraglia che ha fatto un'esibizione della Madonna al ballottaggio proprio penso che avrebbe eliminato qualunque altro personaggio forse tranne quei quattro finalisti ha eliminato ovviamente i Sea Wars che ancora una volta secondo me leggerini anche nel ballottaggio continuano a non trasmettermi nulla fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto mi raccomando ragazzi iscrivetevi questo canale qualora lo aveste già fatto tanti mi piacciono che vi è piaciuto senza che vi ha fatto cagare ma come sempre voglio che voi mi spiegate il perché grazie per questo video buon channel come sempre ci vediamo in un prossimo video